Edoardo Rebichesu, CEO e founder del Realistico, una nuova startup nel settore immobiliare. Edoardo, spiega ai nostri telespettatori, che sono principalmente agenti immobiliari, cosa si occupa la tua azienda. La nostra azienda ha realizzato una piattaforma che permette a qualunque agenzia immobiliare di essere totalmente autonoma nella realizzazione di una bellissima visita virtuale, una visita virtuale di alta qualità. Come lo facciamo? Dotiamo l'agenzia di tutto ciò di cui ha bisogno. Quindi se è già in possesso di una fotocamera a 360 gradi, questi nuovi dispositivi che ci permettono con una sola fotografia di riprendere un intero immobile, possono utilizzarla per realizzare con la nostra piattaforma una bellissima visita dell'immobile. Altrimenti gliela forniamo noi. Abbiamo dei piani che comprendono anche la dotazione della fotocamera. Una visita virtuale realizzata con il realistico è uno strumento potente. Perché? Perché può essere condivisa con i nostri visitatori in qualunque modo, via social, via mail, via WhatsApp e può essere integrata soprattutto nel sito dell'agenzia e nei più comuni portali immobiliari. Quindi un'azienda super moderna. Voi siete giovanissimi? Quando avete iniziato questa avventura? Siamo una start-up, abbiamo iniziato un anno fa. L'azienda è stata fondata a dicembre 2015. È derivata da una semplice constatazione. Ci siamo resi conto che le visite virtuali erano menzionate nel mercato immobiliare da almeno 20 anni. Ma non avevano ancora sfondato, erano arrivati alla portata di tutti. Nessuno si osava farle per un monolocale, banalmente, perché c'era un investimento di costo, c'era una difficoltà e serviva magari un fotocopo professionista. La nostra piattaforma le ha democratizzate a tutti gli effetti. Voi avete bisogno di un utente, agente immobiliare, parliamo, molto a contatto con la tecnologia, la digitalizzazione. In questo processo di acquisizione dei clienti che avete fatto, che difficoltà avete riscontrato con gli agenti immobiliari nell'approccio con la tecnologia? Allora, diciamo che l'agente immobiliare si dota delle tecnologie di cui vede un reale valore. L'abbiamo visto banalmente col portale immobiliare. È stata un'adozione progressiva, ma poi massiva. Ci sono sempre alcuni che fanno il passo avanti molto prima degli altri e noi, essendo una start-up tecnologica, dobbiamo fidarci di queste persone perché creeranno il giusto traino a una piattaforma come la nostra. Però poi, quando queste persone diventano ambasciatori di un prodotto che crea valore, tutti gli altri pian piano se ne rendono conto e arrivano ad adottarlo. Noi quello che speriamo per realistico è proprio questo, che siano i nostri clienti a promuoverlo e a crearne il giusto traino. Il passaparola del migliore dei marketing, come sempre. Ultima domanda, prima volta la partecipazione alla Real Estate Awards. Come ti sembra questo evento? Quali sono le tue impressioni? Bellissimo, semplicemente bellissimo. Devo fare tutti i complimenti all'organizzazione perché è stata veramente per noi un'occasione bellissima di incontrare e confrontarci con tantissime realtà, tantissime agenzie e ovviamente stimolare poi anche quella che è l'interesse verso il nostro prodotto. Però la cosa più bella è stato vedere il coinvolgimento, la collaborazione tra tutti in due giorni, perché anche la formula di due giorni mi sembra molto vincente, in cui ci si possono scambiare un sacco di idee e opinioni e fare molto networking. Perfetto, grazie per la tua disponibilità e ci vediamo, speriamo, anche l'anno prossimo di Real Estate Awards 2017. Grazie mille.